30.000 euro per cercare di garantirsi illecitamente un futuro. 30.000 euro pagati da alcuni studenti per superare il test d'ingresso all'Università di Medicina e Odontoiatria nelle sedi universitarie di Napoli, Foggia e Verona. A scoprire la truffa la Guardia di Finanza di Bari, che ha eseguito sei arresti, tra cui Francesco Roberto Grassi, 58 anni, ordinario di odontostomatologia all'Università di Bari. Altre 27 persone, tra docenti e dipendenti universitari, studenti e aspiranti matricole, risultano indagate. L'inchiesta è stata avviata a seguito di controlli condotti il 4 settembre del 2009 nelle sedi universitarie di Napoli, Foggia e Verona. L'organizzazione criminale, cappeggiata dal professor Grassi, aveva scogitato un sofisticato sistema informatico che prevedeva la soluzione a tutte le risposte dei test in cambio di 30.000 euro. Al termine della prova d'esame, spiega la procura, alcuni dei candidati vennero trovati in possesso di un telefonino utilizzato per la ricezione delle soluzioni al questionario ministeriale, un'attività che secondo gli inquirenti ha fruttato circa 250.000 euro.